Ab, benvenuti su Dreamless, un gioco che è pieno di manichini ed è anche in italiano Maronna mia, il gioco, il salvataggio automatico avviene a ogni atto Ma questa è la signora, ma questo è il mostro della Lunch Lady, ragazzi Manca? Uscire? Senza speranza? Errore? Sogno? Atto 1, ma sì, partiamo dall'atto 1, mi sembra una cosa utile La peggior paura della mia vita, la piccola mia mamma non poteva portarmi nei negozi Ma sei serio oppure stai scherzando? Con che italiano? E sono tutte domande per il momento Pulsanti a pressione Vabbè, pulsanti a pressione Pulsanti a pressione Uè, si inizia già bene Con un lungo pulsanti a pressione No, ma io bobbolo No, aspetta, il curri... Scusatemi, ragazzi Cos'è il curriculum? Cos'è il curriculum? Perché c'è il curriculum? Cos'è il curriculum? Perché il curriculum? Continuare a giocare è il curriculum Tocca mandare il curriculum Tocca mandare il curriculum Ma cosa c'è? Vabbè, io non dirò Velocità di lisciatura Luxmoving Grazie Sensibilità allo sguardo Le faremo sapere Andare avanti Va bene Display, modalità di visualizzazione Risoluzione dello schermo Scala di rendering Filtraggio anisotropico Qualità, distanza Fiore Fiore Cos'è il fiore, ragazzi? È anche in italiano Ah, bloom Cos'è che liscia velocemente? Eh, valla a chiedere al curriculum Velocità di lisciatura Ragazzi, io non voglio toccare la velocità di lisciatura Perché mi piacciono un po' mossi i capelli Su Dove è su? Dove è su? Dove è su? Che ho fatto? Su Indietro Vabbè, basta Andiamo Ciao Iole Buon pomeriggio Che succede? No Iole Picchi ai padroni Ciao Ai carone Vedere i controlli subito Controlli Equipaggiamento Esaminare Ricarica Ads Quindi ci sono i cosi Gli ADV Appoggiarsi a destra Disimballaggio Sono uno scatolone Su On Non ho capito Ciao Franca Buon poverischio Ciao Tartà No ragazzi Io non Vabbè, camminiamo Dai Camminiamo Che magari possiamo trovare Dell'amore Da qualche parte Satana Sera Questa vibrazione Vabbè, dai Del vibrato La gente è al 90 Vedete Vedete che c'era? Vedete che c'era Sono io la padrona Ah no Iole Non avevo letto la padrona Buongiorno Un'altra mattinata difficile Giovanni Cazzo È Giovanni proprio Ragazzi È proprio lui Perché si chiama Giovanni Questo Ok Un'altra mattinata difficile Foto di amici Che belli Siamo noi Certo Sembra Diciamo un po' La thumbnail Di un video di porna Ma va bene Come la clip Di ho mandato ieri Ma che è il suo telefono? Rimetti a posto Leggi La voglia di tabacco È iniziata nel mio corpo Più di un anno fa Devo smettere È quello quando inizio Ma basta Basta Spegnete questo telefono Come si spegne? Dov'è? Ma si sente un bordè Ma dov'è il telefono? Pronto È utilizzo Pronto Sì? Ciao John Come stai? Mi chiamo Giovanni Va bene Oggi andiamo in campeggio Come gruppo? Chi? Beh Mi sono ammalata All'improvviso John ed Emma Sono andate fuori città E i pieni Sono stati annullati Purtroppo Credo che potremmo Andarci uno Di questi giorni Ah non si fa più in campeggio Oh che peccato Un vero peccato Ma come volontà L'altro si chiama volontà Vabbè Se non sbaglio Stai filmando qualcosa Vero? Qualche video per il blog Molto raro Ma sì Avete sentito parlare Del festival internazionale Dei blogger horror Chi gira il vlog Sull'abbandono più spaventoso Riceve un milione Mi chiedo se mi stai suggerendo Di andare da soli In un posto sconosciuto Con una macchina fotografica Dove lo trovo Un posto abbandonato? Cose randomiche Non preoccuparti L'altro giorno Sono passato Dalla casa della signora Marta Un posto vuoto Nessuno Può andare lì Strillare come una ragazza E tornare a casa E domani andremo In campeggio insieme Il vlog sull'abbandono La signora Marta È morta molto tempo fa Non lo so Non lo so Sembra attraente Ma comunque penso Che sia pericoloso Ma è la signora Marta Che attraente? Settimana della morte Sei fuori di testa amico Tutti sanno Che è una copertura Per far fuori le persone Che si sono messe Contro il sindaco È una stronzata Magari è morta Non sapevo di essere morta Ricordi quell'idiota Che è scomparsa 25 anni fa? Pensate che la maledizione L'abbia presa Fanculo Ha graffiato il SUV Nuovo di zecca Del sindaco Coincidenza? Io non credo Quindi vai domani E potrei mostrarci Come è strillato Come una ragazzina Oddio Ma io sto parlando Con volontà Oh vaffanculo Ci vediamo più tardi Adesso che ho visto Una cosa di volontà Devo fare i bagagli Mancano solo un paio d'ore Dal tramonto Tutti girano blog Spaventosi di notte Ma cos'altro potrebbero fare? Si chiama Will Ok macchina fotografica Zaino Non mi serve nient'altro E prendiamo tutto Allora vai Volantino con ragazza scomparsa Una classica ragazza ramen No come si dice Una ragazza anime Ciao Ippo Dio mio Scusate la febbre Allora lo zaino ce l'ho La macchina fotogenica Sarà da qualche parte Velocità di lisciatura Aprire l'inventario Vai Ce l'ho Utilizzo Ok Salve amici E benvenuti Nel mio vlog Sono Ricottino Paper Figliolo Sono andato a fare il turno di notte La cena è in frigo Va bene Grazie Utilizzo attesa Come devo Come si spegne la telecamera La telecamera Telecamera Come si spegne la telecamera Teleca Come si spegne la telecamera Ragazzi Non ho studiato Ma che è saldata sulla fa No no Mannaggia Sto riprendendo Nulla Spostamento all'indietro Grauccio Utilizzo Esaminare Forse Q Forse Q No Eh Utilizzo Uno Due Tab Utilizzo Oh Grazie a te Che significa Che significa da utilizzo Attesa Che devo fare Devo fumare Con le sigarette accese Così a cazzo di cane Siamo senza omen Ma con la telecamera Sì Devo fare altro Non ho capito Il cellulare Suppongo No Nemmeno Con queste descrizioni Così chiare Capirà sub No io ho capito Allora Vediamo un attimo Mancante Eh guarda È mancante Veramente Scafandolo Della brugola Ma io Vorrei capire Scusa Eh Ah Attesa Nel senso Che dovevo Tenerlo premuto Premi Pulsanti a pressione Premiamo Sto pulsanti a pressione Vai Che old Sì È necessario Prendere uno zaino Con una telecamera Registrare Una piccola introduzione Va bene Hello And welcome To my Salve cari abbonati Oggi visiteremo Questo meraviglioso luogo Che un tempo Apparteneva A una vecchia Signora malvagia Guarda lo zoom Guarda 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 lo zoom Guarda Eh Questa è bravura Eh raga Questa è bravura Questa è bravura Guarda là Eh 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 Ok andiamo Ciao Eunis È content warning Abilita la visione notturna Con la telecamera Ah così Va bene Troppi comandi Ciao Glia Italia abbandonata Dovrei posare lo zaino E guardarmi intorno Per vedere se trovo qualcosa di interessante Va bene Giovanni E dove lo poso lo zaino? C'è un Ma in questa casa posso entrare così Senza permesso Ma poi ci sono ancora tutti gli oggetti Non ho capito Abbonati come quelli del tele Salerno Esattamente Siete degli abbonati amici Buono ma che vento Ma il vento di caserta Proprio Ma devo chiuderla la porta Cosa è qui? Ah Ho posato lo zaino Quindi adesso mi posso guardare intorno Chiudiamo la porta Credo che sia giù Doveroso Andiamo a controllare un po' Che bella Gli stessi spifferi di casa mia Ma chi è? Chi è? Aspetta vado ad arrivare Apre un attimo la porta Sì Ditemi Sento anche qualcuno che scorreggia È normale Aspetta Vabbè Fatto Non secondo me non c'è nessuno Sarà stato Il papa Non funziona La signora Marta Probabilmente passava molto tempo Ad ascoltare i notiziari E vari podcast Umoristici E i nipoti giocavano ai videogiochi È un miracolo Che nessuno abbia ancora Toccato questa roba Ma perché Perché esattamente Perché è così specifico? Cioè perché è così specifico? Con le cose Eh sì videogiochi Ma la signora Marta Quando è morta? Negli anni 70 Fatemi capire I podcast Sulla radio FM Vabbè ci sta Magari facevano dei podcast Ragazzi Che ne sappiamo Quando è morta la signora Marta? Che non vorrei capire Andiamo a vedere intanto Piano di sopra ci saliamo dopo Qui ci siamo stati Abbiamo controllato un po' in giro Aperto Non si apre Oh Finalmente Ma l'ho lasciato tutto qui Dentifricio Il migliore Per tenere la bocca pulita È vero Che nel tempo trascorso qui Il suo uso potrebbe causare Danni fatali Un dentifricio Frato ma Cioè non è che stai toccando Della candeggina Era il 99 C'era la playstation Altro che andare il 2600 Ma il 99 Lo stai decidendo tu C'è un cucciolo di Yoda Sul divano Dove l'avete visto? Dov'è? E vabbè ma tutto questo vento Volontà diceva che è sparita 25 anni fa Vabbè 25 anni fa È un caprino È un caprino 25 anni fa Ma potrebbe essere Questo gli anni 90 Capito? Cioè non siamo nel 2024 Allora Questa è la cucina È chiusa C'è un foglio Leggiamo Dannati bambini Ogni giorno molestano me e i miei nipoti Vengono a frotte Lanciano bastoni Sassi e altri rifiuti Ma che cosa ho capito? Ma dove vive questa? Nel Bronx Il dipartimento comunale Non ha avuto problemi a lasciarmi libero Ma chi risarcirà i vetri rotti E pulirà la spazzatura sparsa per casa Sono davvero stufa Signora ma con chi sta? Dove vive? Mi sono sempre chiesta Perché fossi odiata da tutta la città La povera signora Puzzano di qualcosa di morto Eh guarda è la marca Che non è il massimo Fa abbastanza schifo Il linciaggio Ma serio? Mamma gli scarrafuni Ma è pieno di Eh vabbè Cos'è questo cron Ah sto cronciando Perché sto scrocchiando qui sopra Paper Rito 681 L'invocazione di un'entità demoniaca Si effettua in un'area con massima attività paranormale Luogo di morti Animali Credo fosse un'offesa In nessun caso si raccomanda di chiamare fantasmi Nel senso che non li posso chiamare al telefono Gli dà fastidio Ah Particolarmente pericolosi Che possono causare danni irreparabili La procedura è in sé Disegnare un pentagramma con il sangue Per un effetto migliore E utilizzare il sangue di una vittima innocente Ci sta Posizionare cinque candele intorno ai bordi del pentagramma Ci sta Accendete le candele Giustamente Non sapevamo che cosa farcene Mettete un oggetto personale del defunto Se non sapete che tipo di oggetto fosse Usate dei peluche Come? Se non sapete che tipo di oggetto fosse Il defunto Ma non era un oggetto Sono sempre legati agli anime dei bambini defunti Leggete ad alta voce la seguente frase L'anima morta torna a noi Attraverso la barriera della vita e della morte Per tre volte Va bene Capisco Ciao sesso E ciao step Buon pomeriggio Vediamo un po' Chissà di chi sarà il sangue innocente Quindi tua nonna era appassionata di occulto? Mia nonna Che cos'è un pentagramma di sangue? Se ci sono stati degli occultisti qui Probabilmente è nascosto qui da qualche parte Dovremmo cercarlo Ma chi? Dovremmo Con chi sta parlando? Ma che cos'è? Gollum Ho visto candele in casa Accendini nello zaino Altrimenti come avrei potuto fumare? Eh 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 La voglia di fumare mi ha salvato Un giocattolo dovrebbe essere nella stanza dei giochi Credo Ma vuole fare il rito Ciao belli Plurale maestatis Ah 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 Capisco Questo è un peluche Ce l'ho Com'è? Devo prendere prima il coso? Che discorsi senza senso Guarda in questo momento Eh ma devo salire Non ho capito Non mi fa fare Salgo Vediamo un po' Magari sopra ce li sono altre informazioni Ah bene Queste sono le informazioni Va bene Informazioni finite Ragazzi Forse dobbiamo trovare altri documenti Perché mi dice che c'è l'accendino da prendere nel mio zaino Ma non me lo fa prendere Signora mia Perché è morta zia Maria Cos'è che sto toccando? C'è qualcosa che mi esce Oh Cassetto Vedi? Poi ci sono le candele Le candele Non c'è più niente Forse non è quello il tuo zaino No come l'ho posgiato io Ah aspetta Sta facendo il video Bravo Tartavion Che mi ha detto Che sta facendo il video Forse è per questo Ha le mani occupate No mi si vede un cazzo Mi si vede un cazzo Ehm Cosa devo fare Signora Signora Prendiamo le candele E mettiamole Cos'è questo scrocchiare? Che ogni tanto sento che scrocchia qualcosa Parano i patati Ah i cassetti Magari nei cassetti posso trovare altro Belli Belli Abbiamo la torcia in teoria No Abbiamo il visore Della telecamera Fra l'altro posso così bello il visore delle telecamere Magari Si vedesse così bene al buio Ma i manichini Stanno dopo Sbaglio questa casa l'abbiamo già vista Sì è una È una casa di un horror Non c'è niente Dice che dovevo andare a prendere il pupazzo E lo zaino con L'accendino Si è l'asset di 100 jog Ma forse sono altri pupazzi Non questo pupazzo Magari non sarà questo pupazzo Sarà un altro pupazzo Sono pazzo 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 Voglio darti il mio pupazzo Non c'è nient'altro Sprengendo la telecamera Nei comandi c'era una F per la torcia Sì che è questa credo Questa è la F Sono pazzo per il Napoli Anche Ma anche pazzo per Gesù Questa è la signora che ascoltava i podcast Non c'è altro ragazzi Oh no ma la porta è chiusa Vaffanculo ragazzi Ci hanno chiuso dentro Vabbè non posso più Ci sono dei fogli magari qui sopra Era quella la stanza dei giochi Dove devo andare? Fra l'altro lui cammina Guarda guarda Cammina saltilchiando Forse devo leggere i braschi? No Puzzano di qualcosa di morto Eh l'ho capito Fra poco muoio io Disegnare un pentagramma con il sangue E ma io poi Fra l'altro dove lo dissi? Ah la farina Un sacco di farina non aperto Probabilmente scaduto Probabilmente sarebbe dovuto andare a finire nel pane O in qualche pancake Ma credo che non sia stato così Quanti pensieri profondi e specifici Per un pacco di farina Di farina Come lo troviamo il sangue? Ma spero di buttarlo io Ah missing esaminare Mancante Ci sta Raga non c'è altro Ma signora che faceva le cose Qua ci sono le farfalle Ce l'ho dimmi se parlare Silvia parlami subito Parlami ora E non tacere per sempre Che vorrei capire Non funziona Forse abbiamo un tasto per Ok Con l'uno chiudo la telecamera Piovono farfalle Non sto più nella pelle Ho perso le emozioni Me le ritrovi tu Il tappeto nella cucina Cosa? Tappeto E che devo Carpet utilizzo Ma io mi ammazzo Io lo faccio ragazzi Lo faccio Devo portare Ah perché ho tolto il tappeto E ho visto che c'era il pentargolo Ok Ok Vabbè Che almeno Mia mamma Penso avreste fatto partire voi Un audio Stavo per dire Why you ma tutto a posto Inizia il caffè Sì Va bene Tutto bene Quello che finisce bene Ma che devo fare Devo prendere lo sbrodolino Bimbo No Non si prende Te l'avevo detto Che sono un fantasma Dispettoso Ma non credo Che sia la signora Marta Non credo Ma ti pare il momento Di mettere musica E magari volevano Le candele Magari volevano Un po' di atmosfera Vabbè Il mio merc Ciao Simmina Una palla No che dopo tutte quelle Che ho visto ieri Basta Io le palle Non le voglio vedere più Cinque candele Abbiamo detto Due candele Due candele Due candele Lì me merco Che cosa vuoi tu Dai calma Le candele Tre candele Eh ma me ne mancano due Ragazzi Sono tante Perché io volo Con i piedi Chi è che mi sta parlando Nel cervello Ha detto Palle sudate L'ho sentito Un bambino Che mette musica Si sente Ronaldo E gioca sulla seta Di mia nonna Sì un pochino Ma mi manca L'ultima candelia Basta Godere Che palle Mi serve L'ultima candela Dove potrebbe essere Se io fossi una candela Dove mi metterei Nella stanza Dei giochi No No Non c'è nessuna candela Qui Da quel che vedo Ah invece Sì è lì Non ci passo Ho sentito Voldemort parlare Col basilisco Parlava col basilico Altro che Ok Nuovo obiettivo Saccheggiato candela Tra l'altro Voi non lo leggete Ma abbiamo appena Saccheggiato candele Saccheggiato Siamo dei pirati Le metto Ok Ok da a posto Andiamo accendendo Utilizzo attesa Cosa sto Granocchiando Sempre delle patate Utilizzo attesa A te E' necessario E' necessario un accendino E non l'ho preso Scusami Tre ore Per fare questa cosa E non l'ho preso Ok Utilizzo attesa Uno Due Ciao Squall Che pure loot Non avrebbe senso Ho capito Però Fatto Yes Stiamo facendo un art attack Oh Bussano alla porta Ragazzi Chi sarà mai Magari mi hanno consigliato Finalmente la pizza Sì ho capito Arrivo Esaminiamo Non guardare in alto Per favore Va bene Guardo in basso Torno indietro Grazie mille Apri Ma ora arrivano Guarda subito Io non ho guardato in alto Ragazzi Non c'è niente Mi sono allontanato Ho guardato in alto Sono quelli della folletta Eh ragazzi Ma non c'è niente Non ho guardato in alto Però non c'è Ah fra l'altro In alto dove? Qua Di qua Non sto capendo Non guardare in alto Per favore Va bene Vai su Mergerita Che paura Ok Va bene Quindi mo che faccio Forse per in alto Intende al piano di sopra Eh no è chiuso Ragazzi è chiuso il piano di sopra Sta sedia che fra l'altro Sgocciola Che fastidio Mi hai spaventato tu Ma come ti permetti Io non spavento mai nessuno Sono una persona civile Posso continuare a fare I miei sporchi comodi Ah mi serve il pupazzo Vero Mi sono dimenticata Se vi va L'altra cosa Andiamo a prendere il pupazzo È il pupazzo Mi È questa Ah non ho chiuso l'oro Vabbè ragazzi Non ho chiuso l'oro A ritaglie con la musica Eh però era bella Era bella ragazzi Era una roba Eh Allora mettiamo Questo qua Pupazzo Nuovo obiettivo C'ha già fatto Devo recitare Il corpo di Christian No Che dovevo fare Leggete l'alta voce Posso leggere Leggo Il corpo di Christian Non Dice Leggi l'incantesimo E come lo leggo Come lo leggo Scusatemi Ah qui Perché lo devo dire Lontano L'anima morta Torna a noi Attraverso la barriera Della vita e della morte Ma lo devo leggere Tre volte L'anima morta Torna a noi Attraverso la barriera Della vita e della mortia L'anima morta Torna a noi Attraverso la barriera Della vita e della morte Chi è che balla Il tip tap Signora Signora Ma questa era la vecchia Marta Che cosa è stato Forse il modo in cui Will mi ha fatto uno scherzo Per farmi spaventare E vincere la gara C'è un motivo Si è detto di essere Già stato qui Ma è Marta Quella Ma Per fortuna Dovrei avere un sacco Appena nello zaino E' meglio dormire Sui materassi Mezzi marci Va bene Tocchiamo il materassi Ma è la signora Ma è la signora Marta Madonna Signora Ma lei ha un problema Guardala lì Guardala Pulsanti a pressione Ma sembra un orco Del signore di anello Magari lo è Ciao Fiorelle Ma che è sta roba Ma sono i I cosi Di WeFit Sono i signori Di WeFit Ciao bambino Che bella Hai problemi al collo Bambino Ah ma è un manichino Mi sentite? Già Come faccio a capirti? Voglio dire Non muovi nemmeno la bocca Sei sicuro Che non sia Un'allucinazione Del tuo cervello? Non saresti dovuto Venire qui Fatti i cazzi tu Cosa? Dove? Non saresti dovuto Venire qui Fatti i cazzi tu Alan Subito Lavorava in un liceo Giapponese Mia madre dice Che sono più bella Di così Ma in mia madre Quindi non vale Ma ha ragione E' il pupazzo Di Lost Alon E' il pupazzo Di Lost Alon Per cato Che non l'abbiano Tradotto Alano E' vero Dove diavolo sono? Dov'è la mia macchina fotografica? Merda 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 Se non trovo la macchina fotografica Mi uccideranno di sicuro a casa Dovrò cercarla Ah La macchina fotografica Ok Va bene Cos'era quel Fringuello? La macchina fotografica Fotografica Mi torba un po' Colano Oggi mia nipote Elisabeth E mia nipote Alan Sono tornati di umore Completamente spento Più o meno come sempre Dopo essersi trasferiti Nella grande città A causa della morte Dei genitori In questo buco di merda Ci sentiamo tutti fuori luogo Comunque devo dire Che la La signora Ciao Giuggi Tutto bene Un po' di febbre Ma tutto bene Ciao Tullio Devo dire che la signora Comunque era molto scurrile Loro sono vittime Di bullismo a scuola Io sono perseguitato Da vicini inadeguati Che hanno deciso Che sono una strega Che maledice I loro figli irrequieti E' tutto molto molto triste La mia professione Di cartomante Non mi ha aiutato Nella vita purtroppo Ma Marta Ma che feciva cartomante Poi ti lamenti Se ti chiamano strega Ma io come devo fare Con questa donna Ma io come devo Ah ma questa è scritta Pure in italiano Ma guarda là Ma tu pensa No vabbè Ma io come posso fare Come posso fare Con questa donna Gioielli Una chiave Wow Saccheggiato chiave Ragazzi Finalmente Con la chiave saccheggiata Possiamo andare Avanzi Signora Venga Mi Sì Dica Mi legga le carte Malediremo Ciò si rompe i pali De vicino E non si riveda sano Che poi dico io Scusa ma C'avevi i bambini È un mulo Stanno spostando i mobili È qualcosa gratta Sì 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 Qualcosa gratta Qualcosa gratta Cos'è sta bottiglia Leggi Bellissimo vaso Mi ricordo che da bambina Mia madre amava collezionarli Che frase totalmente A random Sugli elefanti dello zoo Questa è bloccata Questa ovviamente È bloccata Andiamo Una sedia che striscia Sul parquet Ciao sisetta Senso della grattatura Sclic Scloc Ciao felle Cos'è oggi Una sta andata male No oggi no Oggi stiamo È nel seminterrato In attesa per te Ah eh vabbè grazie Ma qui Ma chi è nel seminterrato Non capisco Qui c'è una cassaforchia Eh ma servirà una password Che non abbiamo ancora Ma non vi preoccupate La troveremo Io ti aspetto per giocare a scopo Eh ma non ho portato le carri Ma che sono tutti questi pupazzo Fra l'altro il pupazzo di 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 Voldemort Un volantino con una ragazzina Scomparsa Questo è sempre Il fatto Va bene Questo è sempre Il rito demoniaco E ok La farina È ancora qui E io come c'entro Nel seminterrato Perché se ancora in questa casa Non siamo scappati Da una fine Ma infatti Noi non dovevamo fare Un video di abbandono E basta Mi sono sentita abbandonata Io l'abbandono L'ho sentito Possiamo tornare Forse ho aprito i cassetti Andiamo un po' Allora Apriamo qua Apriamo qua No Magari c'è qualcosa Che dobbiamo prendere No? Sì ma questo vento Che poi Scrocchia Come le patatine Il bagno No Le assi No Non lo so Ragazzi Cominciano a non avere più Temerarietà Ah qui non c'era entrata È vero Wow 11 anni Tutti noi abbiamo sentito Almeno una volta Un cambiamento Nella nostra vita Forse è solo Una nuova gonna In saldo O forse Una nuova vita Signora Dopo la morte Dei miei genitori Mio fratello Mia nonna E io Ci siamo trasferiti Nel mezzo del nulla Dove sembra che vivano Solo selvaggi Ogni giorno Sembra sempre più buio La città stessa Sembra allontanarci Evocando solo Emozioni negative È incredibile Come la vita Possa improvvisamente Cavavolgersi Cambiando per sempre Va bene Ma a me che cazzo Me ne frega Bambola Bambola Non dovevo Non dovevo Percularla Perché ride la bambina Mi ha fatto gli gnocchi Ragazzi scusatemi Non dovevo percularla C'ho Oh La bambola del Vaticano È vero È luce Oggi Elisabeth Si è fatta rompere Il braccio di proposito Da alcuni studenti Del liceo Ma che significa Alan ha cercato Di reagire Ma ha accidentalmente Fatto cadere Una bottiglia Di uno dei figli Del sindaco Potremmo trovarci In grossi guai Visto che si tratta Di un uomo Molto potente Che tiene in pugno L'intera città Vabbè Ma è luce È vero Guardala Ma è vero Ma come di proposito Ma sì dai Sono quelle cose Che fanno i ragazzi Dai Ma è raga Si sa Quando ti annoi Non sai che fare Che degli amici Mi spezzi Un braccio E mo che cosa Avremmo aperto Con questa chiave Ti manca solo Il bastone Tra poco diventeremo Tra poco diventeremo Noi un bastone Sono ragazzi Sì No questa è bloccata Quindi sopra Sì prima ci limitavamo A darci fuoco ai piedi Ma ora ormai I tempi sono cambiati Ragazzi I giovani I giovani hanno Diverse priorità Una mia compagna Si faceva sanguinare Lì la naso Per non seguire le lezioni Ma che cosa La senti Permesso Che posto Classico Sette di verniciatura Da bambino Volevo fare l'artista Ma nessuno credeva in me Io ho abbandonato Presto l'idea No mi dispiace Dovevi inseguire dei sogni È giusto Inseguire i propri sogni Si Di nuovo Momento Momento podcast Aspetta La scuola È un posto strano Vero È un luogo In cui si possono Sviluppare Le proprie conoscenze Oggi si può fermare Spese di coitali Che pur essendo immaturi Vedono il mondo In un modo diverso Ma non sono forse Lo stesso Fortunatamente La mia mente Se li è lasciate Alle spalle Da tempo Dandomi un netto vantaggio Era così Nella mia città natale Ma ora che sono In questo inferno Io e mio fratello Siamo immaginati Siamo letteralmente Oriati da tutti Da casa a scuola Bullismo Da scuola a casa Bullismo Ma ho cercato Di cambiare le cose Ho lottato Contro uno Dei bulli A scuola Purtroppo Senza successo Ma la bambina Fa un podcast Ma la bambina Sta a fare il podcast Non ho capito Per non andare All'asilo Dalle sole Mi facevo venire La febbre Insieme al sangue Come si facevi venire La febbre Come si va a farsi Venire la febbre Allora Orso 250 kg Scimmia 7 kg Pinguino 35 Maiale 200 Coneglio 2 Pegora 110 Capisco È un po' come con le fate Devi crederci Io non ci ho creduto A questa febbre Però Mi è venuta lo stesso Come me Funziona Raghi Io non ho capito Che cosa vuol dire Questa storia Dei pinguini Stiamo facendo Un po' di shaming Sugli animali Ragazzi Non ho mica capito Cosa vuol dire Che Significa Ah Nuovo obiettivo Trovate un piede di porco E raggiungete il seminterrato O trova 6 giocattoli Ah Devo trovare tutti i giocattoli Che va bene Li ho visti da qualche parte Sì 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 Li ho visti da qualche parte Allora Uno stava di qua Sì In cucina c'era il pupazzo Del pinguino Che era di quello di Linux Uno però stava qua Pupazzo Gioielli Esamina Ah no Queste le avevo già viste Vaffanculo Pupazzo Sono pazzo 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 Voglio darti il mio pupazzo Eeeh Ok No qua niente Era una fan di Linux Sì E anche Dei giochi Fatti con Poco ritegno Allora Qui ce n'era un altro Portami un giocattolo Quale giocattolo ti devo portare? Che vuoi? Mollami Si è rubato la pecora Sto Che esagerazione Ma io non lo so Vabbè Andiamo a prendere un pupazzo Subito Ancora Queste Scafandre Che si muovono Eh 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 Sì Che vuol dire? Cosa si diceva? Non prende la linea Ehi Hello E niente Non prende la linea Ma quindi si abbasso gli occhi Non sento Sardato il contatore Vabbè dai Andiamo a cercare gli altri pupazzi Nel frattempo È un demine Allora Abbiamo un altro pupazzo E Io lo devo da quello Giusto? Quanti ne abbiamo trovati? Io non mi ricordo nemmeno Dio mio Signora mia Come va? Oh no L'ho rotto No Ragazzi Non prende più L'abbiamo bullizzato troppo Quale pupazzo vuoi a papà? Che? Ti ho preso il pupazzo Ma mi dai questo? Mi dai que... Allora Aspetta Peluche di scimmia senza banana Orso giocattolo di peluche L'importante è non metterlo in macchina Che vuol dire? Un peluche di pinguino È così carino Va bene Porta un giocattolo E io l'ho portato Non le vuole Me lo posso usare? Lo vuoi? Forse devo posare la torcia No Abbiamo una macchina? Non lo so Non... Aspetta che forse riprende di nuovo la linea No Ma quello è un bambino tranquillo Ragazzi Ma state sereni State sereni Che quello è solo la faccia un po' strana Però sta così tranquillo Appunto Cioè Ve l'ho detto Quello è un bravo bambino Alla fine Che ha solo la faccia un po' strana Non è che si può fare shaming Per questo Raga A me sembra Non esserci altro Tranquillo Ha fatto una brutta firma Lasciatelo sta Che ha già fatto con sto pentagolo? Gira la ruota Yeah yeah Gira la ruota Yeah yeah E così La puoi inculare anche tu Non so dove andare Forse qui ci sono altri pupastri? Ah forse li devo mettere sulle sedie? No Faccio sempre Giocattolo Lui voleva un altro giocattolo proprio Ah Quindi Adesso gli diamo Eh Gli diamo Il Il monopattino Tiè Tieni il monopattino È contento È contento È contento È contento È contento il bambino Io non contenta Ciao Yuri Cioè se è contento lui Va bene Ma fra l'altro con questa mano alzata Non fare il nostalgico Andiamo a cercare l'ultima Dove 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 si trova l'ultima Mi serve l'ultimo pupazzo C'è una cosa che mi sta estremamente sul nervo e il rumore del vento degli spifferi Ma sì ma pure a me Ma anche perché lo sta È un suono Tabula È un suono Che sto sentendo il loops Il loops Ah 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 Che vuol dire Cos'è questa roba Cos'è questa roba È utilizzo Nooo Bastardo Eh Lì Tiè Tris 3971 Mamma da 3971 Fatto Easy Tedabula Cosa vuoi 3971 Sì Yes Saccheggiato chiave Chissà che chiave adesso Questa? No Ovviamente no Non è mai quella Non si va mai in quella stanza Ma si va in bagno Dove troveremo l'ultimo pelus Ok Saccheggiato pelus Leggiamo Mi è stato proibito di visitare qualsiasi luogo in cui le persone potessero incontrarsi L'astio personale del sindaco si è trasformato in una completa negazione Creatività dell'intera città Mi fa sempre ridere questa cosa degli horror in cui troviamo sempre negli horror la storia Spiegata su dei volantini per casa a caso Come se io un giorno decidessi di raccontare una cosa che mi è appena successa Prendendo un foglio per strada Scrivo e poi lo lascio su una poltrona Così Chi cazzo lo fa mai? Perché tutti gli horror sono fatti così? Ma a chi cazzo è venuta la prima idea? Di dire Questa è una buona idea per spiegare la storia di questo gioco Chi è? Cioè chi è che cammi... Mi si è rotta un'unghia Prendo un foglio Ci scrivo Oggi sono molto triste Mi si è rotta un'unghia Poi lo poggio su una sedia Allora i bonus per post-it Sì Vabbè Hanno buttato la spesa tutta la porta con me un cane Mannaggia Ma io non lo so Vabbè Posso andare via? Io andrei Io lo faccio in generale nella vita quando sto in fila sul raccordo Nel senso che ti fai dei post-it Se ti piace Allora una volta che ho preso i pubblici giocattoli Li devo far sedere? Direi a Bram Stoker che Dracula è tutto così È vero? Sei dev tu? Non puoi capire Anche questo è vero Non sono dev Non lo posso capire Va bene ragazzi Abbiamo... Abbiamo E Moga già fa questi popazzi Me li chiamo in più Sono tre Sono cinque Sono cinque Allora Morbida pecora Se fosse umana sarebbe un'ottima stilista Ciao scazzonte Che furtire Ma che furtire Ciao alien Da Game Dev va tutto perfettamente Ma che furtire Manca un pupazzo Ma sono cinque Scusa tre Quattro e cinque Pelusce di un cinghiale Un cinghiale? Ma è un maiale Sembra un tipico sviluppatore di uno studio di sviluppo di giochi indie Ciao noix Ma che vuol dire? Ma il dissing Cos'è? Ci manca il coniglio Ah è vero Cos'è questo dissing Pro Come si esce? Chiudi Cos'è questo dissing? Intenzione autocritica Ma magari lui non si sente un indie dev Lui magari è un big dev Un tripla dev Quello lo faccio io Toccare piano? Allora ragazzi ci serve il coniglio Dove lo tocchiamo? Dove lo troviamo il coniglio? Io non l'ho visto da nessuna parte Sto coniglio Magari si sente solo con io Magari si auto offende Lì Io Lì ti metto le mani La porta vicina al frigo C'era un coniglio Ah il coniglio lo fai tu T'amò E va bene Dai ci sta Vi che c'è Guarda io arrivo eh Quando meno te lo aspetti Quando meno te lo aspetti Vediamo Intanto qui continuo a non prendere più la linea Purtroppo mi si è rotto Devi trovare il piede di porca e aprire la porta Eh no non Ah si è aperto Guarda Una stanza con solo un coniglio Io Si Io che Si Non ho ben capito Devo battere Che fa Batto Eh rave Cos'era questo rave inaspettato Le faccine che fanno le Le faccine che fanno i Morona magari Ah Al final non devo più giocare a te Sto stas Cucu Cos'è la faccina che faceva la linguaccia Ma io non lo so Ma che Ma sto dev E' veramente un maiale Guarda Un maiale vi dico Eh Utilizzo Belli Ah Sono Sono Belli E io Adesso cosa dovrei capire Già la seconda volta che fai la spavala E ti cagli porti Vabbè ma quello è normale Credo che li debba mettere in ordine di peso Quindi si parte con l'orso bruco Che è il più ciccio Poi si mette il porco Quel porco del dev E poi si passa la pecora Come sta messa la mamma del dev Che sta sempre a pecora Penguins Poi manca la scimmia e il coniglio La scimmia E il coniglio Katia che c'è? Cosa vuoi? Che ho detto? Li ho messi L'orso bruco è il più ciccio Sì è vero Ok le ho messi Ma? Le mamme non si mettono in mezzo No ragazzi Le mamme La prima cosa che si nomina è sempre la mamma La prima Proprio è la base Le hai messi al più grande e al più piccolo? Nel verso opposto Ah Quindi prima l'orso bruco Allora l'orso bruco Poi l'orso porco Poi la La pecora Che era quella Poi c'era La capretta E il coniglio No La scimmia No Non ho capito Il pinguino Eh? Allora l'orso bruco Va bene E facciamola L'orso bruco Poi il porcello Gesù L'orso bruco Poi il porcello Poi la pecora Va bene Poi la pecora Poi il pinguino Poi la scimmia Poi il coniglio Un piede di parchio Finalmente Leggiamo un po' Sera Buonasera Una fredda serata Autunnale Sono seduto con calma Accanto al camino Che è stato usato Per l'ultima volta Probabilmente decenni fa È passato un mese Da quel terribile giorno Un giorno Che l'intera città Rimpiangerà Per centinaia di anni Cazzo Perché Si sono sbarazzati Di Elisabeth e Alain Le hanno prese Dopo la scuola E le hanno brutalizzate Nel bosco Quanto specifico Il sindaco Si affrettò Ad archiviare il caso Sì certo Non ci si aspettava Niente di meno Da lui Ve ne pentirete tutti È ora di ricordare Il mio hobby Di sempre L'occulto Vabbè dai Che bell'hobby Signora Bravo È contenta Perché mettere Questo voglio Dietro l'armadio Non lo so Però mi piace Mi piace che È tempo Yeah bitches È tempo di sfornare Il mio hobby preferito L'occulto Andiamo a sfornare L'occulto Quindi è qui Che faccio l'occulto Ah no Devo scendere in bagno Giusto Consiglio di amministrazione Consiglio di amministrazione Che significa Perché consiglio La scuola di occulto Perché Perché consiglio Di amministrazione Sarà lo studio Sì Signora Quando facciamo il corso di occulto Eh ragazzi Quando abbiamo tempo Esaminare Quante scorte di cibo Forse si stavano preparando Per qualcosa Per mangiare Magari Avvocato Che ne dici Non lo so Ciao Bua Buon pomeriggio Sì Oh no Un'altra radio Ragazzi Sapete che cosa vuol dire L'ennesimo episodio Del podcast Che non voglio sentire La bambina Fatta di betulle Vabbè Andiamo Giustamente Il consiglio di amministrazione Nell'occulto Nell'occulto Si fa nei sotterrani Ci sta Ci sta Va bene Allora Andiamo a vedere Qua ci sta una bella Ah una videocamera L'ho trovata Ragà Finalmente Yes Finally The telecoms Is Mike Yes Allora sentiamo Strega Nipote di satana Stramba Il sentano ha regalato Un abbonamento Di livello Livello 1 Mia nonna praticava La cartomanzia Sì Vabbè Ma perché qui La odiano così tanto Prima non era un problema Nel post La settimana scorsa Non vi ho raccontato Completamente Dello scontro Con il bullo locale Che si è rivelato Essere un importante Pezzo grosso Ah Quindi lei Ha picchiato Il figlio del sindaco Purtroppo Ricordo solo vagamente Cosa è successo dopo Va bene signora E io che devo fare Quanto alto L'alert Effettivamente Era molto alto Mo aspetta L'abbasso un pochino Tano Grazie mille Per la sabba All'occulto Finalmente Abbiamo un po' Di occulto Da queste parti Il bullo locale Il pezzo grosso È un bullone Beh Un po' Ciao Nermi E non riesco a vedere Mi si affoga la vista Ciao Napoli Chi è? Ho la vista tutta affogata Non vedo Eh quanto è bella pure questa Ma io non lo so Ma perché? Ma perché siamo qui A fare pulsanti a pressione? Finalmente abbiamo L'occulto Oh Un enorme peluschio Siamo noi l'occulto Tutti questi manichini Guarda là È pieno di manichini Guarda lì A bambino Non è un manichino Sì? Mio fratello Non ti ha detto Che non ci piacciono Gli estranei? Eh 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 Io non lo so Non volevo Per favore Lasciatemi andare Sono solo un normale adolescente Volevo solo andare in giro Con una macchina fotografica Così per favore Temo che non si possa tornare indietro O forse sì Non lo so In ogni caso ci vediamo in giro Va bene signora La sorella di sono Sta musica l'ho già sentita in un altro gioco Però non ricordo quale Sì ma sapete quanta roba è riciclatissima Dove siamo adesso? Respira sto manichino Eh vabbè ma saranno fatti solo se vuole respirare Non è che i manichini non devono respirare per forza Dannazione di nuovo Gli occhi brillano nel vuoto Che cazzo è questa merda? Una specie di puzzle? Credo di dover portare qualche organi? Gli occhi brillano nel vuoto come luce nell'oscurità Il cervello pulsa nelle mie mani Sussurrando il destino Il fegato brucia come una candela Il calore si spegne nella notte Tutto ciò che era umano è diventato un dono Va bene E' la poesia che recito io a Natale Sempre più lento man mano che andiamo avanti Io sbaglio Non sbagli Ma non posso avere la telecamera Era simpatica la telecamera Mi piaceva Aveva un non so che Quindi occhi cervello e fegato Eh si suppone di sì Ah che poi lui cammina pianissimo Non corre Oddio ragazzi Ma questa è una scuola No ragazzi Ma questa è una scuola lunga Chi è? Qua è correggiato Questa è chiusa Pissi 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 The classrooms Sì ma vorrei almeno una telecamera Per le classroom Hai capito? Che senza le telecamere È un po' triste Esistono pure le scuole core Sì le scuoline Piccoline Anche a me sembra quella di Fasmo È la scuola di Fasmofobia Ma qui ci sono delle palle Che brillano Ci vedo già per Silvia Lo siamo Lo siamo Però questo lo continuiamo E lo finiamo Non oggi ovviamente Perché Penso di non reggere Più di un'altra ora Però Lo continuiamo Lo continuiamo E lo finiamo Perché io voglio capire adesso Come finisce la traduzione Ragazzi ma era solo quella stanza Che poi La torcia Ma è accesa davvero? O non è accesa? Cioè io la sto facendo Della luce? Oppure è finta Magga poco 15 minuti Ma tu non devi dire Mai più niente In realtà mancherebbe Solo un quarto d'ora circa Cosa vuol dire Un quarto d'ora? Ma è tutto chiuso Dice We're here Ok Ok C'è un'altra torcia E qui manca un forco Sono delle zinne disegnate sopra Chiavi Saccheggiato chiavi Chiavi di che? Ma stanno parlando nel bagno comunque Stanno facendo pissi pissi nel bagno A me non mi crede più No certo che non mi crede Non credo più a nessuno Non credo nemmeno più a Silvio ormai Dove? Cioè Quale chiave? La chiave del mio cuore? Che poi veramente Non vedo un cazzo ragazzi Io non vedo niente Né di qua né di là No è tutto chiuso Dopo questa io ti direi di chiudere il gameplay Non vi azzardate Non vi Non vi Mister T Non ti azzardare Non ti Non ti Non vi Ragazzi Quale è la porta che si apre? Stanno aprendo la camera dei segreti Ma serio? Ma poi per tutto il tema Chi ha pensato che sarebbe stata una bella idea? Goduria Un cervello Finalmente Non è il mio Will Vent'anni Stava tornando a casa In una sera di fine autunno Vedevo la strada Che portava a una casa Che non riconoscevo Si rivelò Essere l'ex casa Della signora Marta La star della città Fu istordito da un oggetto pesante E non ricordo altro Signora Quale è? Pissi Pissi La signora Che cura Maronna Che chiappa soda Ma la signora è sodissima Beh è un sacco di squall Stavo facendo un sacco di squall È un sacco di squall Signora E ancora Mannaggia a me È bella Tutta indurita Ok Tutto bellissimo E io quindi sono venuta qui Solo per prendere un cervello Voleva dei manichini Ragazzi Voleva dei manichini Eccoli Che fa la signora sfonda Signora sfonda Lei Io non posso andare da nessuna parte Questa tre ciumara Nooo Mi ha già scordato forne Guarda lì Guarda che chiappe Sao è Sono durissime Questo è il bagno Vediamo se c'è una signora In bagno Purtroppo no Che tristezza A quali di questi manichini Dobbiamo prendere il cervello Credo a nessuno Perché il cervello L'abbiamo già preso Sto cercando di capire Devo tornare di qua A posare il cervello Che non ho più chiavi Non ho più nulla Però qui non lo posso mettere Qui non lo posso mettere No Allora Trova tre pezzi del puzzle La fine è vicina Mi dice Vorrei saperlo anche io Jessico Calcetto Io non vedo niente Ragazzi Qualcuno voleva sapere Cosa dovevi fare Ma hai deciso di insultarli Ma non li ho insultati Ho detto solo Che non mi fido Signora Ho detto solo Che non mi fido Signora Ma stanno a ballare Il quacqua Che cos'è questa sedia Devo sedere È l'inizio di un porno Di quelli volgari Su Pornhub No Quindi Cosa Quindi li ha insultati No Ho detto che non mi fido Cosa guardate Cosa volete Abbiate pietà Di una povera anima Ma che facevano Tutte karate In sto posto Tutti dei karatechi Belli Bravi Complimenti Le magiche ballerine Volanti Che saltano di qua Ed anche di là E la signora Però non fa Ti aiuteranno mai più Allora Continua per di qua Va bene Sto andando Sì Dica Oh maronna Santa Che Dove sono? Pronto? Aspetta Mi sono un attimo Incombrata Al cervello Questa che sta Questa è esattamente La mia reazione Comunque A questo gioco Esattamente La mia reazione Cioè questa La reazione Che ho in questo momento In questo giorno Andiamo Avanzi Ma sto tornando Indietro ragazzi Sì La risposta è sì Quindi dovevo andare Di qua Credo Sì Pennywise Non è il momento No non è il momento No Una porta Una porta E si apre Signora Ma non c'è niente C'è soltanto gente Che sta ballando Il flamenco Questa che sta Dando un calcio Nelle palle Doveva essere Un gioco bello Come gli ultimi Dici giocati Allora io non ho mai Detto Mai Non ho mai Utilizzo Utilizza il cervello Questo articolo Non è adatto Mannaggia Sarà per la prossima Aspetta No Io che cazzo Sono venuta a fare Qua scusami Mentre nella stanza Di fianco Dove c'era il clown La stanza Di fianco Dove c'era il clown Dove è? Qua? È una classe? Ah è una classe Salve Sono Classica Posso? Madonna Santissima Io Oh Ma chi è questo goblin? Coo Beverly 19 anni Torna a casa da sola Da scuola Come al solito Non ho mai avuto amici E probabilmente Non li avrò mai No Beverly Avanti a battere così tanto C'è stato un acquazzone Improvviso E mi sono dovuta nascondere In una capanna Abbandonata Per rimanere asciutta L'odore di umidità La vecchiaia E i lampi di luce Sono le ultime cose Che ricordo La vecchiaia Che senso La vecchiaia La signora A un certo punto Si è segnita vecchia A 19 anni E quello Capita da subito Odore di vecchio Vecna È vero Sembra un po' vecna È vero Ah Utilizzo No 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 Non voglio Non voglio Minimamente Non voglio Nemmeno Che fare Con questa roba Puzzle Del labirinto Ok Ma non c'è una palla Senza palla C'è un rattuso Che la seguiva Palla Di ma Cosa aveva in buca Cosa aveva in buca Palla di marmo Eh sì Posso infilarla Ok Da qui Eh va bene Allora Follow the path For unravel The mystery Minstries Ocean Ok Maronna mia Il gioco più difficile Dell'universo No 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 Mi serve la musica zen La musica zen La musica zen Zero katia La musica zen Pianno 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 Prepozio 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 Prpozio Gabri Prepozio 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 Chiesc 21 60 53 Ah, tombola Come? Non vedo Pronto 21, 60, 53 21 Dove è G? 21 Poi Poi 60 Non mi dovete dire i numeri sbagliati 60 53 No Vabbè, posso girare 53 Queste non le facciamo in live bingo? Penso di sì Troppo presto per di Yes Sì Ah, le palle dei miei occhi Poi una carta rossa Ah, la carta rossa del coso Va bene, perfetto Sì, penso di sì È troppo presto per dirlo, ma penso di sì Suppongo che sia Sia fattibile come cosa Ma dobbiamo soltanto ritrovare la porta con la carta Giusto? Che comunque è una roba facile Perché era qui No? Ciao, soffesino! No, sono 30 mesi Sono tantissimi Eh? Vorrei dirle le solite cose sdolcinate Quando me le hai dette mai Quando me le hai dette mai? Se uno urla per 8 anni, 7 mesi e 6 giorni Produrresti abbastanza energie sonora per riscaldare una tazzina di caffè Io penso di averne riscaldate almeno 100 Da quando inizio a streamare Ragazzi, ma dove cazzo sto andando? Vi prego Devo lottare per il mio 50 Farò sparire tutti i 50 Da tutte le cose Topitino! Ma bentornata Per 30 mesi Madonna, mi sta salendo Secondo me mi sta salendo La febbre è a 90 Come la mamma del dev C'ho veramente la mamma del dev Sulla mia fronte Ragazzi, io mi ricordo che C'era C'era Ve lo ricordate anche voi? Ma stacca prima No, no, ragazzi Non stacco prima Ne va della mia altitudine Piuttosto Mi spoglio Allora Ritorniamo di qua No, no, raga Ma non vi preoccupate Morirò in live Perché un vero samurai Ciao, gara Un vero samurai Combatte Fino alla fine È di qui che devo passare Se queste cesse Mi fanno passare No, mi fanno passare le cesse Mi sa, sapete? No, credo che proprio Siano le cesse Ad ostacolarmi il villaggio Mettono i piedi davanti Ma io non li voglio I piedini di ragazzo Gamer Andate qua La signora mi sta dicendo Di andare di qua È normale? Content Sarete tutti content Uh, la carta rossa Assa fa Piii Ciao Gianluca Ok Siamo entrati In un'altra stanza Bello un accendino saccheggio più leggero ah più leggero lighter hai bevuto acqua oggi? sto bevendo un po' però mi sento veramente adesso mi sto sentendo, ciao Egate mi sento veramente che tipo mi bruciano gli occhi mi bruciano gli occhi e mi sento mi stanno cadendo le palle piene di peli cupipi per esaminare accendeteli tutti si gara catch mall catch mall vive i pokemon pokemon si idrati per me? mi sto idratando mi sto idratando no raga devo far live perché la settimana prossima poi noi non ci vediamo la settimana prossima io faccio live fino a mercoledì poi giovedì parto che vado per raggiungerei per andare alla games week quindi settimana prossima se vi manco venite alla games week bastardi così vi sputo addosso se volete se non vi piace non lo faccio se non vi piace ci abbandona per la games week ma ci abbandona ci abbandona è un parolone dato che vengo alla games week per voi sì saccheggiato fegato leggiamo caroline 18 anni il giorno prima dell'incidente aveva graffiato l'auto del sindaco il che significava direttamente solo grossi guai per il resto della sua vita ma su sindaco proprio mamma mia che rotturi cazzo così è carica perduta lo so Tano però non devo streammare ragazzi non stream io non non fatico una fragile signora anziana si offrì di aiutarla a coprire le prove di passare la notte a casa sua feci il grande errore di accettare non ricordo nient'altro quindi abbiamo preso tutto sì sì no ma non vi preoccupate anche perché voi il 16 ok tomba 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 cosa succede? cosa succede? tomba cosa vuol dire tomba? 16 è completo di bellotta quindi non posso nemmeno ammalarmi possiamo cambiare sindaco sentite io mi porto una palla che non si sa mai qua trema tutto guardali come ballano guarda guarda come ballano Michael Giorgio no non ero io guardali come tremano ma cosa significa perché c'è questo tremolio cos'è questo tremolio? dovrebbe inquietarmi tremolio dovrei essere inquietata avranno paura del sindaco ah dite potrebbe essere intanto andiamo andiamo prima che sia troppo tardi non ho più paura sì probabile allora vediamo un po' non ho più paura del sindaco io ho messo tutte le cose sì eh quanta accensione troppa un armadietto nascondere ma da chi mi devo nascondere? dal sindaco sembrava di stare a casa mia la notte di capodanno però poi basta questo era uscire usciamo attenzione c'è di nuovo Alans Annal mio piccolo Annal con lo smartphone non preoccuparsi l'altro giorno sono passato dalla casa della signora Marta un posto vuoto nessuno puoi andare lì strillare come una ragazza e tornare a casa e domani andremo in campeggio insieme ah quindi l'hanno ucciso l'amico la signora Marta è morta molto tempo fa ah quindi si sta sentendo la cosa da solo la settimana dei morti sì è vero è volontà non è Annal è volontà è vero ragazzi sì 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 quindi volontà è morto insieme a tutti gli altri per colpa del sindaco maledetto sindaco ok volontà eh sì scala per il futuro utilizzo e io vado abito in un condolino di gente urlante eh vabbè pensa io sì ma devo farvene tutte le scale che ho un dolore ai fianchi capi non vorrei che no poi devo va bene devo ragazzi devo eh se devo devo non possiamo dire di no andiamo c'è scritto fine accettare sì o no ma cosa che devo accettare ma cos'è il gioco dei pacchi sì sì cosa devo accettare soldi cos'è il gioco dei pacchi buttati che mo io non accetto no 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 che devo fare no volevo vedere se mi dava un più soldi accettare accettare lo sviluppatore nel senso di prenderlo a colpi di accetta guarda voglio lo fare volentieri sì fammi salire devi toccare la mano penso saranno le scale ad ogni piano ci sono dei foglietti ma chi è che mette dei foglietti a terra mentre sali delle scale verso la fine ma io ti sparo allora non si può tornare indietro mi dispiace eh guarda invece è invece mi è uscito un brufolo sul naso mentre stavo facendo la live com'è possibile John basta così figliolo quindi siamo morti anche noi perché noi siamo il sindaco allora leggiamo ora sei con noi amico vabbè abbracciamoci sì 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 come sì sì devi accettare la morte sì e accetto vado accetto accetto tutto a quel punto non sapevo se stavo facendo la cosa giusta guarda in questo momento nemmeno io non lo so ormai sì ma sapevo una cosa sì cosa me ne vado da qui oh no siamo impossessabili grazie per aver giocato a Dreamless speriamo che il gioco vi sia piaciuto apprezziamo la sua opinione saremo lieti di sorprenderla con noi i progetti distinti saluti il team il team di Setone Games ragazzi cosa dire se non guarda guarda dallo stress dallo stress mi è uscito un brufalo sul naso guarda grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti